A presto, per favore, almeno c'è la voce... Che le provaste? Non mi ho capito di morire. No, io non mi ho capito di ... Non mi ho capito di morire. Che le provaste? Che lo siente. Te vanno a tirare 20 pelotas, e poi tu saci almeno 15 o 12, che sono le cose palle. Ehi... Hai contatto con la voce... Allì alante, che tu viena, quando la vola... Allì alante. Vamo che c'è un quinto, per mandare un calabolo. Che tu viena all'alante. Quince picchiamo. Vamo che c'è un quel che... Vamo che c'è un quel che... Vamo che c'è un bel calabolo. Vamo che c'è un bel calabolo. Tu, l'acqua è. Vamo che c'è un bel calabolo. Vamo che c'è anche un bel calabolo. Attacateci, non si può andare con la fuerza degli altri. il il l'alante 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 ora ora va tembano l'alante 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 il ma 5 l'alante 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 la No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.